In cucchia! Ora che gli sono anch'io? Poi c'è meglio che esco, vero? Beh, quasi quasi Che fai te? Sì, come che sono? Che sono? Che fai per le ragazze Non ci vuole 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 il nemoglio è il più notolo, sta buono lì provo a cominciare via con la sua mamma anche lui ma quello lì lo sai perché fa come modo perché è notolo? perché mangia troppo, non ce la fa di felì e poi rimane lì e si che l'hanno messa sotto eccola, ecco, esce ma e sta per uscire mamma mia, che verte per diaprimi ecco, quella si è messa a ciucciare, no eccolo, sta a uscire eccolo, bastarda no, no, no la ce la, la ce la sta si vede che fa, ecco l'altra eccola ora venga a stavolarello e quella tu esce, non ce la fa che l'altra ti porta una sega no, eh, Nemo, Nemo ma perché non si rientra tutti dentro? li faccio rientrare? eh, io dio uno e ti saldi maia togli maia sta ferma ecco ecco Nemo, Nemo 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 ti sei fatto a uscire ma lui gli sta prendendo un muso bellino Nemo che fai? ma è bellino ma perché non si rientra tutti in te come lo spesi? mi prendi loro eh io mando no, basta qui, basta, ma ferma ma ci metti qualcosa? no, no, eh, bastarda eh non me lo mordi non è una sega e' una gialla miseria una mangia e l'altra e le macelle le fanno le animali a entra ma di via che escono e' so' bello usciti eh babbo ci metti qualcosa? e' so' bello